Sono Massimiliano Rosolino. Ho vinto un oro olimpico, ma il successo più grande l'ho raggiunto diventando papà di due splendide bambine. Credo che le prime scelte che facciamo noi genitori siano importantissime per la loro salute futura, a partire dalla nutrizione. Per mia figlia, dopo l'anno, ho scelto il latte crescita Aptamil 3 con Prunutra Plus. I suoi nutrienti contribuiscono al buon funzionamento del sistema immunitario e allo sviluppo cerebrale. Aptamil Latte Crescita. Il suo futuro è nelle tue mani.